Allora fammi vedere cosa c'è di qua Qua se non sbaglio dovrebbe esserci anche Una cosa di pietra Dove avevano oggetti che ci sono qua? Eh sì sì vai i cani che ci sono lì anche Cazzo Eh ma non li hai visti ma figa No non li ho visti Ma cazzo Nasconditi Eh no Stavo guardando dietro la cosa Per vedere se c'era qualcuno No 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 Vediamo un po' se ce la fa Ma porca Bacca Porca porca bacca Allora cerco di rimanere vivo Io vengo in una Cerco di rimanere fin lì Sei morto? No no è morto lui Ok allora senti io provo Aspetta Provo a venire fin lì fondamentalmente solo per prendere l'oggetto Che hai preso tu Ok E poi mi butto giù lì dei cani Ok Che dovrei essere lì vicino se non mi ricordo male E tu ucciditi i cani Io poi cerco di Sì sono morti Di sopravvivere ai cani E vediamo che succede Quanta gente è morta? Promemoria Anzi 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 Io Crisalidi Una chiave Posso buttarmi direttamente dai cani in realtà Non so quanto mi conviene Allora Eh no perché dopo hai la bulina Eh no 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 Ah guarda era uno dei giganti Questo qua l'hanno Vabbè ma se io mi butto dai cani Nulla è Cioè nel senso io uccido i cani E poi boh E poi ci troviamo lì Io avrò ancora l'abominio nella mia partita Cosa salti Deficiente Il cavaliere non se ne è accorto Non se ne è Ma ascolta C'è una grazia che vi hai detto giusto qua Ma mi sembra che da qualche parte ci sia una grazia Allora io sono qua dei cani Se tu hai ucciso tutti i cani Sì Sì li ho uccisi Ok E poi mi evochi qua dei cani Sì vabbè Io metto già il dito che non si sa mai Ecco Eh ma tu l'oggetto che devi prendere Oh l'ho già preso Ah l'ho già preso Eh io ho fatto un giro veloce Mi sto prendendo gli oggetti che sono qua Tranquillo tranquillo Ho preso tutto Bah perfetto Cosa l'ho messo eh Ok vedo Io ci avrò l'abominio da ammazzare Masticati Aspetti ho una manuiglia dopo Vado un attimo avanti per capire cosa sta succedendo Ok ok Ho attivato un ascensore E te lo faccio attivare anche a te così abbiamo Ah sì questo sì l'ho già L'hai già attivato Hai visto dove va no? Sì No non ho visto dove va Eh va a finire praticamente vicino alla grazia Ah ok Da dove siamo partiti Quindi possiamo usare quello per venire giù dopo Esatto e ci ritroviamo direttamente qua Adesso non vorrei dire una cagata ma è così Aspetta qui c'è una spada Che non posso Non ho Non ce l'hai? Eh no non ce l'hai Ok va bene io ce l'ho ma non posso Non possiamo usarla Andiamo di qua Dovrebbe esserci anche un oggetto abbastanza figo Che preda pietra della forgitura funeraria Ok Dobbiamo andare di qua allora Di qua Ok Andare avanti dove vai tu dai Aspetta più Così esplori Qua si può andare Eh ma tu c'è la ciò La ciò La torcia C'è Eh sì Sei troppo avanti Vorrebbe esserci anche la lanterna Da qualche parte Dobbiamo andare a comprarcela Ottimo E forse da qualche parte laggiù c'è un oggetto Sì c'è un oggetto Io non posso prendere Sì di qua di qua La accompagno venga Poi io scendo giù Grazie buon omo Grazie È rimasto incastrato col culo all'aria Poveraccio Ma dove va? Frecci Frecci Ok dai Vai Sono cataste di cose Dove siamo? Ah si va sempre più su qua No 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 E lì è da dove siamo andati prima Dobbiamo andare avanti di qua adesso noi Ah aspetta aspetta Fammi vedere di qua C'è prima E da dove arriviamo? Sì? E sì lì dove c'era l'abominio No Sì Ma no ma vieni qua Ah sì è vero Sì sì Mamma mia Io non ho dormito dopo come te Orienta Eh vabbè ma l'orientamento è proprio zero qua Vada vada Allora ci sono un po' di ommini È una squadra intera qua? Sì ce ne sono due o tre Sì sì E sì è continuano ad arrivare poi Non ti preoccupare Aspetta aspetta Vai tiraci a uno a caso Magari uno che sta attaccato alla balestra Esatto proprio quello Sta fermo lì lui Non gliene frega niente Io ne ho uno davanti a me che c'ha La balestra Qua dritto lì Niente neanche gli altri se ne sono accorti Non c'è nessuno che viene Io vado di frecce e cacchio Dai su ragazzi venite Io tra un po' Mi rompo le palle e vado dritto Dritto per dritto vada Fa culo via Sì sì bravo Metti di riva Vedete arriva una schioppettata direttamente sulla schiena vai Bravissimo Eeeh Eeeh Vengo anch'io adesso Adesso me ne arriva uno da dietro E infatti E infatti Caboia o E no E vabbè il doppio attacco però non vale Luridi maledetti infami Ok Ci ho provato E questo? No E intanto James Ho finito le cule Intanto James ha finito anche la fortuna mi sa E sarà schiattato anche lui Esattamente Va bene Allora Cosa facciamo? Vuoi che ti do una mano io? Andiamo giù? Andiamo su? No no Io tanto l'oggetto Per qualcosa L'ho preso Ok E se tutto procede per il meglio io dovrei essere Dovrei essere dall'ascensore Così lo attivo Ma scusami Ma scusami Io ho attivato giù l'ascensore Adesso dice che posso muovermi Non posso usarlo Allora siamo pirlo Allora Perché? Tira la leva Il meccanismo non si muove Ah ma cos'è andato su? No non sono andato su Eh dovevi andare su Eh che cacchio Si attivano così Ma porca troia Eh e si eh Mi butto dai cani anch'io Allora aspettami Vado giù Te la ricordi la strada? Si si Vediamo dei cani? Yes Ok dai Ti aspetto qua dei cani Ah io i cani li avevo già uccisi Quindi sono tranquillo Eh esatto Stai là Frattempo c'è l'abominio Che c'era con me Abominio che facciamo qua? Eh? Che ti faccio? Non ti faccio niente di danno Oh Salve signori salve No 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 Stavo scherzando Abominio maledetto Non ci pazzi eh? No Chiappate questo Oh ragazzi ma sapete che Ma l'ho uccito l'abominio Sì però questo qua c'ha troppe braccia Quanti attacchi vuoi fare? Non mi fa mica più uscire di qua eh? Fammi vedere se c'ho qualcosa da lancio Che lo uccido Con la cacca gli tiro Gli tiro gli escrementi Quanto affutto non c'è da me l'abominio No veramente non posso usare niente io Non ho nulla da lancio Siamo sicuri che non ho nulla da lancio? Fammi un po' vedere Ho una balestra Eccoci può Ma sì che c'erò da lancio Adesso gli lancio con la balestra Gli lancio Dove è finita l'abominio? Signora Abominio No 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 Cosa sto facendo? Mamma mia non gli faccio niente Hai già messo il dito per caso? No vero? No 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 Adesso lo metto Ok ok Vai tranquillo L'ho messo eh L'ho messo in un posto di merda Ma l'ho messo E due di danno gli faccio E la miseria Niente Niente praticamente gli fai Sì no è due perché si stava parando L'hai visto il mio simbolo? E l'ho messo un po' più indietro anche dai cani E... Non so Tu dove sei? Sì sì sono qua Stavo facendo un po' di frecce infuocate Ah ok ok Uno mi evoca in un altro mondo Dai vieni 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 Ok Va bene mi sono andato da lì finalmente E si può andare Allora fai una cosa Attiva sto... Sto coso Sì sì già fatto È già fatto? Allora andiamo Non mi ricordo dove Di qua ok E già tu l'abominio non ce l'hai più Non ce l'avevi di nuovo vero? Eh no Perfetto Vai tiraci Non tu vuoi andare proprio stealth Mi piace stealth Ok quello lì è andato Ma non vedono quelli veramente? Eh son pirla Ma veramente son pirla sì Poi questo qua che lancia Vai vai Ci sono anche i due di fianco Occhio A chi? Eh ha lanciato un sassetto Ah ma è son manco accorto Vai Adesso pigli l'altro in testa Non l'hai preso Gli è passato in mezzo Ma veramente Sbamma Ah pacca miseria T'ha preso T'ha preso Una mazzata Te la sei presa Ok In teoria adesso Quelli che lanciano No no Ce n'è uno dritto davanti a te Guarda Ah sì Questo sì sì L'ho visto Ok E ce n'è ancora un altro allora Dove? Lì Dritto lì Ah sì Ok Non l'ho fatto fuori questo Mi lanciano Questo E no perché si rimettono Ah Ce ne sono tanti Senti io sai cosa faccio Vado sopra dalla casetta Se va affan cuore Qua sopra c'è un po' di gente Però almeno È una strada chiusa E non può più venire Cioè non Per quanti ne escono Non mi possono rompere le balle Figa c'è quello lì forte però Oh No E volevi pigliarmi eh Vieni qua sopra con me James Dove sei? Ah sì Ti vedo Ok Boh Così almeno qua Se arrivano Arrivano Riusciamo a giostrarceli Venite 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 pure che vi facciamo un culo nero Ok Non si vede una ceppa eh Proprio Non è proprio bellissimo questo posto Però Però Insomma Però dai Ho trovato un funghetto Ho trovato Sei diventato grande? No E' già tanto che sto in piedi Hai finito di lanciare Sassetti tu? No stiamo Ho capito Ho capito io Scusa Lancia pure Lancia pure Io T'ho sdrenato Ma ti ha veramente spaccato Ti ha Guanti darmi da esbile Ok Io mi sono fatto Mi manca solo più la testa Da esbile e basta Queste cose qua Bisogna romperle Bisogna rompere Non rompono più le palle Si possono rompere Mi ricordavo che si spaccavano Mi sbaglio Ma sta zitto Oggetti Come se non ci fossero domani Guarda che roba Ci si tutti? Vabbè Abbiamo una mano Aspetta che prendo un po' di roba Ok Cappuccio da esbile Boh Posso trasformarmi in uno di loro Evita James Oh E anche questo è andato Allora adesso di qua C'è una strada Che però non mi ricordo dove porta Sai? Ok Non me lo ricordo proprio Andiamo a vedere? Eh si andiamo a vedere Perché non mi ricordo proprio Dove si va qua Ah Ma non l'abbiamo vista Questa prima O questa è un'altra zona Vaccaboya Rat de merda Ci sono i gatti Non so i topi maledetti Ci sono Ustia E' nemico peggiore Che puoi trovare In un souls Vaccaboya Sono imprevedibili Ti devastano Se ti toccano Vai Morite 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 Merde Ancora ce n'è Ma basta Ok Ora abbiamo Abbiamo Dei ratti Dei ratti Derattizzato tutto Abbiamo Qui non era dove eravamo andati prima Questa è un'altra ancora No un'altra ancora Si può mettere Va bene E quindi dobbiamo ricordarci che In castello a gran tempesta Ci sono due oggetti di quelli E due cose di quelli che Guardalo Guarda cosa sono diventato In chiappetto Aspetta Vieni qua Vieni qua che ti uso Ma pensa che figo Se tu potessi usarmi E sparare E spari Contro i nemici Va bene Dai non importa Andiamo vai Non avevo ancora visto Che mi trasformavo così Perché poi ovviamente In base alla zona Dove sei cambia Aspetta che devo Equipaggiarlo però Io ce l'ho equipaggiato Ok dai Vai pure Arrivo Allora se Vai da Quella parte Di qua Se vai da questa parte qua Andiamo a finire All'entrata di gran tempesta Sai che noi Davanti all'entrata Abbiamo girato a sinistra Che c'era il tizio Che ci Diceva di passare Da una parte o dall'altra Che poi abbiamo ucciso Andiamo a finire lì Non è che ci sia tanto da Da fare All'inizio praticamente Eh sì All'inizio Esatto esatto Adesso poi passiamo anche di qua E uccidiamo tutti quelli che troviamo Sì dai Prendiamoci un po' di rune Però torniamo Torniamo solo indietro Ecco Fermo fermo Bravo Fai sneaky Fai sneaky Quello con l'acet Ti sei beccato subito Fammi lo pigliare da dietro Ed è morto Anche lui E fin qua Tutto bene Oh Che cazzo è successo Non lo so Mi hanno Attento Ci sono quelli che lanciano Aspetta Oh Vabbè va Senti Facciamo una cosa Andiamo via Andiamo di qua Che è meglio Ci pensiamo poi Ok E si La tirano Madonna Lascia stare Vai vai Eppure di qua Io la seguo Eh Vada vada No no C'è un oggetto Scusa Ah ok Ok Uh Andiamo di qua C'è una porticina Un quadro Cazzo è questo Ma non l'ha visto Quello Eh Adesso ho visto Eh adesso l'hai visto Sì eh Ah questo qua Forse è anche Battibile Sai E uno dietro Uno davanti Quello dici Eh c'è Sì uno dietro Uno davanti Si diverte Ma C'è anche un cane Fai attenzione Che Non attiriamo Il cane Ecco Faccio io il cane Eh beh certo Fai il cane tu Ok arrivo Arrivo Aspetta Aspetta Eh sì sì Io aspetto Poi macellaio Senti L'hai preso Finalmente Ho detto Che lo massacriamo Insomma Più o meno Entra Entrato 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 Oh Guardalo Lì Ti piace Sopra le chiappone Te l'ho messo Tieni questo Chiappata Chiappetta Chiappetta No vai Vai Bravo Non ci dà niente Tra l'altro Non ci ha dato nulla Che pezzo di Pango Va bene Ha finito le cure Allora Oh Questa è stata qua C'è qualcosa Che lucica Esatto Puoi farla distruggere Soltanto Da Da una creatura Grossa Grossa Più grossa Allora qua c'è un oggetto Credo Ok Andare a prenderlo E Qua c'è una grazia Uh sì Bella Qua c'è una grazia E qua c'è una porta da aprire Ottimo Aspetta Aspetta che vado a vedere una cosa Qua è l'oggetto Come vi hai detto Ok Dietro a forzatura Ok Apri la porta Ok Apri la porta Dovrebbe aprire una scorciatoia Ma non mi ricordo dove Un ascensore qua c'è E dopo lo chiamiamo anche quello Non mi ricordo dove va però Porta su Eh andiamo a vedere Vado a vedere Andiamo a vedere dove va Non mi ricordo proprio Dove siamo qui Abbiamo rischiacciato Boh Ma che palle E dove siamo qua Siamo già passati di qui Dove cazzo siamo Oh Ah ci sono le pentoline qua Sì Ci sono le pentole Aspetta c'è un coso qua Uno è uno Scalfaggio No Ammazzalo Matalo Ottimo Cenere di guerra E chi di tempesta Ok ci sono questi qui Che picchiano come dei fabbri Tra l'altro Via 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 E' arrivato anche quello grosso No 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 da me Cos vuoi No 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 Stavo scherzando Via Minchia T'ha sdarenato Mi ha scherzato Ti hai letteralmente ucciso E vabbè Purtroppo Purtroppo Capito Abbiamo la grazia Abbiamo la grazia Sì tu ce l'hai la grazia Io ce l'ho Grazie al cazzo Allora Aspetta Adesso cerco di arrivare Anch'io Cerco dai Puro Sì Fammi No devi solo farmi Ricordare dove devo andare Ah io adesso devo correre Come un matto Non si apre da questo lato Devo correre come un matto Allora senti Fammi solo fare una cosa Dimmi se non ti evoco eh No 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 Allora fammi solo tornare dalla mia grazia Perché c'ho 11.000 rune E faccio i livelli almeno Eh esatto E così almeno se Se dovessi perdere qualcosa Insomma Non perdo tantissimo Ecco Quindi livello un attimo E arrivo Suppist Suppist Ru Inter Quelle 21.000 rune э Grazie.